ben ritrovati a telespettatori di Cilento Channel ci colleghiamo nuovamente con Roberto Ronca del sindacato FSI USA e ben trovato Roberto. Buonasera buonasera a tutti i telespettatori. In quest'ultimo periodo ci stiamo sentendo di continuo perché insomma è in fermento eh la situazione attuale del covid center di Agropoli però a quanto pare insomma non si è mossa una foglia con il senso che eh è tutto come prima quello che era stato annunciato sale operatorie specialistiche e quant'altro eh oggi e tutt'oggi insomma eh che siamo a febbraio non è stato realizzato ecco che cosa ci puoi dire su questa situazione Roberto? Eh niente praticamente tutto tasce dopo l'ultima volta che ci siamo sentiti dopo le agitazioni che c'erano state eh relativamente a dove si dovesse realizzare il reparto covid e i posti letto aggiuntivi richiesti dalla regione eh si erano ipotizzate anche altri tanti altri risvolti allo stato attuale dopo che eh la direzione sanitaria del presidio Vallo Agropoli ha deciso eh in autonomia di di riorganizzare il reparto dell'ospedale di di Vallo quindi accorpando dei reparti e eh riaprendo al secondo piano il reparto covid chiamandolo reparto di attesa in attesa che eh i pazienti ricoverati positivi trovassero una collocazione nei 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 reparti identificati covid quindi o o Agropoli o Scafati per quanto riguarda l'asera Salerno eh allo stato attuale noi abbiamo riscontriamo la stessa situazione quindi non è cambiato nulla anzi per la verità i reparti di attesa il reparto di attesa di Vallo è diventato un reparto di eh non di attesa bensì di lungodeggenza perché eh diciamo i casi i casi gravi possono cercare una collocazione gli altri restano lì eh diciamo potrebbero forse a volte se non hanno questa gravità potrebbero anche stare a casa come tanti casi positivi ci sono a casa viceversa noi stiamo riscontrando invece una difficoltà proprio ad intercettare i pazienti che arrivano eh nell'ospedale San Luca per capirne subito se sono positivi o negativi e purtroppo in questo periodo abbiamo una diffusione di casi covid anche in altri reparti dell'ospedale stesso non ultimo il caso dell'ortopedia che sta facendo preoccupare sia i pazienti ma bensì anche gli operatori perché poi la diffusione del covid eh si sta allargando anche tra i nostri operatori per fortuna con una carica batterica che non eh non incide molto su quello che è la eh la convalescenza di questi operatori eh questa è la situazione attuale. Tutte le altre gli altri annunci fatti in pompa magna che c'erano stati anche da da campane fuori dal coro fatte in maniera così alla carlona tanto per vedi tutto quello che si ipotizzava eh che fosse stato previsto o è previsto per Agropoli al momento eh non non si è non si è realizzato nulla non mi pare che ci siano all'orizzonte eh iniziazioni di lavori eh imminenti anche perché dall'altro lato mi verrebbe spontaneo chiedere se se finora siamo riusciti ad andare avanti in un certo modo eh adesso che sembra che anche a livello nazionale eh l'ultima notizia radio che dicevano andando avanti per la primavera sembrerebbe che il covid va a sfatare all'organizzazione del covid sta andando un attimino a calare verso una liberalizzazione visto che al momento sembrerebbe che i casi stiano calando da questo punto di vista quindi domani mattina ci dovremmo chiedere se 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 organizziamo le sale operatorie ortopediche le sale operatorie chirurgiche ad Agropoli per quale utilizzo se se i casi sembrerebbe che siano in calo quindi se sembrerebbe che siamo sempre un po' in ritardo rispetto a quello che l'emergenza che ci poteva essere se pure fosse un mese fa. Ecco eh tu sottolineavi che Agropoli insomma eh non è stato eh riorganizzato per quanto riguarda eh l'emergenza covid quindi quello che ci dicevamo poi qualche settimana fa e quindi la l'attivazione delle sale operatorie ma anche eh le specialistiche e quant'altro mentre a ballo della Lucania il reparto covid temporaneo è stato attivato e credo sia andato a pieno regime perché ci sono dei pazienti attualmente covid al suo interno e anche per quanto riguarda le partorienti positive insomma ci sono stati dei eh dei parti eh proprio all'ospedale salute per donne positive ecco com'è la situazione in questo senso Roberto? Eh la situazione noi abbiamo assistito di qualche ora fa come dire una sorta di polemica tra la la direzione eh del presidio eh con il direttore del dipartimento delle nascite il dottore Lonzini per quanto riguarda questo allestimento eh di questo reparto per le parti orienti covid è chiaro che da da un lato eh noi eh volevamo come la sigla sindacale volevamo che tutto il discorso covid non voglio ripetere mi sempre voglio ripetere sempre le stesse cose però tutto il discorso covid andava fatto su Agropoli dove c'era c'era già tutto organizzato bastava un po' allargare gli spazi ci sono bastava attrezzare e anche il discorso del delle nascite poteva essere gestito eh ad Agropoli sicuramente viene gestito a Vallo della Lucania però poi il problema lo ha detto il direttore sanitario poi diventano anche i percorsi perché noi non è noi non siamo attrezzati perché abbiamo un ospedale che fa solo covid noi sulla carta dovremmo fare anche delle altre eh patologie dovremmo trattare degli altri reparti abbiamo accorpato qualcosa ma noi non è che abbiamo chiuso l'ospedale è chiaro che se noi improvvisamente portiamo le partorienti positive nelle sale operatorie centrali eh a volte poi forse mi è capitato che qualche sale operatoria era occupata quindi ci ci possono essere dei problemi proprio di percorsi che sono stati sottovalutati in questa organizzazione eh ben venga quello che che può essere come dire una buona volontà quello di organizzare di dare un servizio sempre al cittadino però noi dobbiamo tutelare la sicurezza sia dei cittadini che degli operatori e eh con una promiscuità del genere secondo me siamo al limite se non proprio rischiamo si rischia parecchio forse questa è la polemica che in questo momento sta intercorrendo tra i vari direttori noi non riusciamo a non capire una situazione così semplice ripeto a Nocera hanno identificato i casi covid vanno scafati a Salerno i casi covid vanno all'ospedale un ospedale specifico per casi covid posto alla parte alta di Salerno e a Vallo della Lucania Vallo Agropoli un unico presidio eh Vallo della Lucania si occupa di venti venti specializzazioni Agropoli è stato identificato come come covid non capisco perché poi mettere un reparto e mezzo a Vallo della Lucania e far rischiare attività sospendere gli operatori messi a rischio perché in questa promiscuità tranquillamente può capitare che uno distrattamente viene chiamato esce eh non dovrebbe succedere però se hai questo movimento ripeto se ti capita l'emergenza con la eh con la parte oriente tu corri perché giustamente bisogna c'è un'emergenza è un'emergenza però bisogna eh si rischia che nel frattempo nelle sale operatorie non ci sono dei percorsi ben stabiliti ci siamo al limite del rischio che non penso siano stati calcolati tutti quanti eh per noi ripeto eh la soluzione c'era eh boh eh a volte le le cose semplici forse non sono non sono per tutti noi non riusciamo a capire non è una del resto anche il direttore sanitario ha dichiarato anche davanti a una riunione con la prefettura che la carenza di personale non c'è del resto gli infermieri assunti per il covid stanno lavorando nel reparto ad agro a Vallo al secondo piano quindi bastava mandarli ad agropoli concentrare tutto ad agropoli quindi il personale c'è dello spazio ci sono eh l'agropoli ormai ha una come dire eh una struttura eh ben definita da due anni da un anno e mezzo che che si occupano di covid quindi sanno come come comportarsi per il resto se era previsto come è previsto questo allargamento con le con le sale con le sale operatorie chirurgiche è chiaro che in quel caso sarebbe andata l'equip nel momento in cui ci fosse stata l'urgenza andava da Vallo però eh in ambienti ben stabiliti e ben certificati che dovessero fare solo covid quindi con con il personale preparato rischi ridotti al minimo per per il contagio sia per i pazienti che per gli operatori resterà come sempre un dilemma l'ospedale civile di Agropoli perché il suo perché insomma non si voglia ecco eh in tutti i modi eh cercare di far ripartire in questo caso con eh il covid visto e considerato che c'è già una struttura eh un reparto dedicato eh non si riesce a capire ancora un'ennesima volta il perché eh debba restare soltanto un semplice eh deposito di pazienti positivi perché così mi dispiace ecco eh il termine ma purtroppo anche per la trafila per arrivare al covid center di Agropoli i pazienti devono essere trasportati prima a Vallo e poi eh vengono accettati al covid di Agropoli quando basterebbe attivare il pronto soccorso covid e avere a questo punto come gli altri ospedali che elencavi tu eh un presidio eh che fa eh solo covid e e vabbè quindi lo abbiamo ne abbiamo ormai abbiamo consumato da dicembre che ne stiamo parlando da quando c'è stata le diciamo questo eh queste indicazioni di attrezzarci perché sembrava che il covid volgesse a una quarta fase più complessa eh questa quarta fase questa emergenza diciamo è durata una settimana il tempo di litigare sulle reti televisive poi praticamente per fortuna è sfiammato tutto quindi da questo punto di vista è sfiammato restano però poi le cicatrici da un lato le cose incompiute previste per Agropoli dall'altro lato la trasformazione o la riduzione di servizi su Vallo che ahimè come all'epoca l'anno scorso ad ottobre io dissi che se eh non si concentrava il reparto tutto ad Agropoli lo dissi anche l'anno scorso quando apriva apri Agropoli e invece intanto tenevamo anche Vallo aperto e io dissi concentriamo tutto su Agropoli altrimenti la gente qui all'ospedale di Vallo per una questione di tranquillità non ci viene più anche perché giustamente se noi siamo impegnati nel covid eh ricordiamoci che a tre chilometri dall'ospedale di Vallo c'è una clinica privata che comunque funziona dalle altre garanzie e naturalmente da offre una serie di servizi e naturalmente non ha a che fare con il covid quindi quindi loro uno per stare tranquillo se io mi devo fare una qualsiasi visita io mi rivolgo al privato faccio prima eh ottengo un servizio più eh più rilassato per così dire in questo caso noi perdiamo anche a PIL eh perché non non riusciamo a a trasmettere eh quella sicurezza ai pazienti e lo stesso discorso ripeto non non lo abbiamo fatto noi ma oggi oggi l'abbiamo sentito per le sui giornali e sulle emittenti se se all'interno del presidio c'è un conflitto e si parla poi di percorsi e si parla di sicurezza e i pazienti che devono venire ci pensano forse due volte prima di approcciare all'ospedale San Luca. Bene Roberto è inutile augurarci a questo punto che la situazione possa eh modificare da qui insomma ai prossimi giorni anche perché poi dovremo andare a trovarli questi pazienti positivi. No noi ci auguriamo. Insomma la la situazione eh si sta raffreddando per quanto riguarda i contagi almeno quello che dicono a livello nazionale quindi noi eh siamo contenti di questo però insomma Agropoli come eh è spesso accaduto ha perso tra virgolette eh lasciami insomma passare questa questa frase ha perso un altro treno insomma peccato perché magari noi ci auguriamo noi ci auguriamo invece che ad Agropoli realizzino quello che hanno promesso ma del resto le sale operatori mi pare che già le avevano attrezzato qualche tempo fa due anni fa. un altro servizio quindi bisognerebbe fare una rispolverata ma erano già state attrezzate vabbè ma vi siete abituati ad attrezzare? Eh sì certo infatti siamo abituati anche a molti tagli di nastro infatti nella nostra città come tu pensai ci saranno le prossime eh elezioni amministrative e quindi eh ci aspettiamo da qui a qualche mese che l'ospedale di Agropoli possa essere il cavallo di battaglia dei prossimi futuri candidati anzi non ce lo auguriamo perché davvero questa volta sarebbe il colmo? No non ti preoccupare che saremo tutti in prima linea specialmente se se chi ha promesso che ci porta la camera iperbarica su un tir quindi come come vi era stato promesso noi l'aspettiamo quindi noi siamo fiduciosi come siamo fiduciosi che ben presto a fine febbraio a questo punto a metà febbraio se si decidono rimettono a posto il nostro grande ospedale di Vallo con i reparti come stavano prima andandosi a ripescare eventualmente se ci sono carenze di personale o distribuzione così fatta un poco alla distratta per così dire quindi il covid deve finire speriamo che ce lo auguriamo tutti così torniamo tutti a farci bagni d'estate e torniamo a parlare di altre problematiche è chiaro mi auguro tutte queste cose me le auguro purtroppo poi ci scontreremo con un'altra problematica che io sto lamentando da diverso tempo che è quella del diciamo dei numeri delle prestazioni che vengono erogate da dai presidi come quello di Vallo della Lucania che stiamo diventando profonda provincia sud e i numeri purtroppo ci danno per alcune specializzazioni ci danno proprio perdenti per così dire anche perché oltre all'età avanzata delle persone altre prestazioni sembrerebbe che non riusciamo proprio a garantirle sia perché poi mancano effettivamente dei medici speciali in alcune specializzazioni importanti e sia perché poi materialmente l'ospedale non avendo più quella pill che aveva prima quel richiamo quei quei professori quei medici che stavano da tanti anni che purtroppo sono andati in pensione non c'è stato il ricambio generazionale non riusciamo più ad avere non possiamo rischiare di non avere più quel traino anzi per la verità io sono convinto che non lo abbiamo almeno per il momento quel traino che potevamo avere prima quindi mentre prima come come per esempio qualche specializzazione attira pazienti anche dalla provincia nord qualche specializzazione la teniamo ancora che funziona e che tira bene e che attrezzata bene sperando che la venga fortificata ce ne sono tante altre che purtroppo le abbiamo perse e che dovremmo ricostruirle speriamo e speriamo bene per tutto il cilento bene allora questo è l'augurio che ci facciamo per il futuro almeno ecco potrà beneficiarne l'intera popolazione del cilento che afferisce ovviamente alla dea di primo livello di vallo della lucania nominato vallo a popoli va bene roberto io ti ringrazio come sempre per per le tue informazioni e speriamo di poterci aggiornare con migliori notizie va benissimo io ringrazio voi buona serata Grazie a tutti